quale articolo della costituzione italiana regola i rapporti con la chiesa cattolica l'articolo 7 della costituzione italiana regola i rapporti dello stato e la chiesa cattolica dice espressamente che sia lo stato che la chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani ciascuno nel proprio ordine la chiesa nell'ambito religioso lo stato per le sue leggi e le sue istituzioni la modifica dei rapporti tra lo stato e la chiesa cattolica non richiedono revisione costituzionale e sono regolati dai patti lateranensi grazie a tutti ciao al prossimo video vi aspetto